Poi farei un grande applauso a un grande artista, mazro quanti pezzi hai fatto qui sul tempo? Mi è piaciuto questo specialino che mi ha fatto, non ce lo siamo sentiti di fare perché insomma poi è mancato proprio a Natale A me mi vengono libri quando ho visto Whitney Houston e lui cantare insieme, è una roba pazzesca Allora, torniamo all'ultimo brano, anzi l'ultimo artista perché siamo giunti alla fine di questo fantastico show E vorrei presentare, aspetta che mi metto qua, che meglio Allora, presentiamo il progetto Martinelli, artista anni 80 che fa capo a nomi come questi Dottor Kez, Murray, Topo e Roby, Radio Ramba e appunto Martinelli Vi presento la cantante che è interpretando tutti questi grandi progetti Simona Zalini, eccola, accogliamo con un applauso Ma voi non sapete quanti successi ha fatto Simona, quante voci ha prestato alla Simona Quindi magari voi non riconoscete il viso ma la sua voce ha fatto cantare tanti artisti Che adesso mi subito perché era lei la voce reale Vieni Signora, un applauso, eccola, grande Grazie Ok Inconveniente tecnico, dai, un bel applauso, su Grazie Inconveniente tecnico, dai, un bel applauso, su Inconveniente tecnico, dai, un bel applauso, su Organizzazione, deveni un bel applauso, ragazzi Inconveniente tecnico, dai, un bel applauso, su ia Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . 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